Le copiose piogge di questi giorni associate agli incendi estivi sono le principali cause del distaccamento nella giornata di ieri di un pesante masso roccioso che è precipitato sulla strada statale Flacca al chilometro 20 e 200 sulla cavalcavia che sovrasta la spiaggia di Sant'Agostina Gaeta. Una situazione ad oggi sotto controllo che pone in risalto soprattutto la fragilità della fascia costiera che da Sperlonga si protrae verso Gaeta. Di sesto idrogeologico di un territorio che necessita di improrrogabili interventi di messa in sicurezza. Ad oggi e per le prossime settimane però la litorania resterà interdetta al traffico mentre il masso roccioso è stato rimosso nella tarda serata di ieri in località Vannella Mare che dal territorio comunale montuoso di Itri è precipitato sfiorando dei mezzi pesanti in transito sulla sottostante strada che ricade nel territorio comunale di Gaeta. I massi diversi e di grosse dimensioni hanno sfondato la robusta recensione in almeno due punti e dopo aver sradicato la vegetazione superstite dall'ultimo incendio estivo hanno invaso la carreggiata e uno in particolare dopo una carambola è finito dopo una corsa di diverse decine di metri sul tratto terminale della spiaggia di Sant'Agostino. Se per puro fatto si è sfiorata la tragedia per il geologo perito dell'Astra la dottoressa Paola Serangeli la massa roccioso calcare d'epoca mesozoica che si è distaccato è soltanto la punta dell'iceberg. Allora allo stato attuale la situazione è piuttosto grave perché sulla sommità possiamo vedere alla nostra sinistra abbiamo una serie di fratture e beanti in cui sono state evidenziate anche concrezioni tipo stalattiti e stalagmidi che hanno permesso il distacco di un volume consistente di roccia. La cosa che ci preoccupa molto è che alcune di queste fratture sembrano isolare dei cunei notevoli e che quindi sono a rischio di chieduta. Abbiamo già studiato la situazione in precedenza e la proposta è quella di sostituire una rete paramassi che comunque ha fatto il suo dovere perché sia in questo evento che in quello avvenuto circa un anno fa comunque la rete paramassi a ridosso della sede stradale ha funzionato. In questo caso i montanti sono stati proprio piegati ma non divelti, non sfilati e pur essendo appunto una rete paramassi ormai di vecchia generazione quindi poco resistente a queste energie che ha dovuto sopportare. Comunque ha funzionato ma andrebbe sostituita, allungata e sostituita con una rete paramassi di nuova generazione quindi in grado di sopportare e di utilizzare una metodologia, tecnologie più avanzate. E noi avvalendoci dell'elicottero della protezione civile intervenuto sul posto assieme alla polizia provinciale, carabinieri di Gaeta e Sperlong, guardie forestali di Itria e vigili urbani di Gaeta non abbiamo esitato a documentare dall'alto recandoci sulla vasta area che sovrasta la strada flacca ed interessata da altri punti di criticità. Ecco come appare ad oggi.